Dai patiti del fai da te che imbracciano la pistola di la colla a caldo prima ancora di accendere le lucine agli amanti del minimal a coloro che addirittura dedicano l'albero alle loro passioni calcistiche. In questo 8 dicembre sono tantissimi gli aretini che hanno fedelmente rispettato la tradizione dell'albero di Natale e del presepe che appunto si fa in questo giorno dell'immacolata concezione, possibilmente con tutta la famiglia riunita. Ai tempi dei social ammirare queste creazioni ancora più semplici con le tante foto pubblicate qua e là che raccontano spaccati di vita quotidiana declinati in tema natalizio. Come non sottolineare il cambiamento ad esempio di questo splendido albero che ha attratto a tal punto questo altrettanto splendido gattino, tanto che l'albero il giorno dopo era così. Ma la fantasia in questo caso spazia davvero i luoghi inesplorati. C'è persino un albero che arriva fino al soffitto, bellissimo, uno dedicato alla Juventus veramente originale con tanto di maglia. C'è chi infine lo mette addirittura nel cappuccino. Insomma, con queste foto vogliamo rappresentare tutta la vostra fantasia e ringraziarvi augurandovi intanto un sereno Natale.